cari amici di cte siamo qui oggi a rivoli veronese per la presentazione in anteprima della nuova Z24J la seconda nata della famiglia Z che dopo la 22 si propone al mercato con la macchina totalmente in sagoma doppio articolato doppio telescopico e jib una macchina dalle prestazioni eccezionali 24 metri di altezza di lavoro da 80 a 250 kg per 10 metri e mezzo di sbraccio ma soprattutto il sistema S3 EVO portato al massimo delle sue prestazioni possibilità di lavorare anche con il braccio telescopico che va in negativo quindi possibilità di arrivare con la cesta a terra già vicino alla macchina quindi prestazioni di primo ordine per una doppia articolata che rinnova la gamma ormai famosa delle Z per diventare Z in un cerchio che chiude dalla vecchia Z20E alla Z e nuovamente Z quindi il passato che ritorna nel futuro della gamma Z di CTE andiamo a conoscerla ecco la prima caratteristica fondamentale di questa macchina nuova sul mercato delle articolate la possibilità di scendere con il braccio telescopico in negativo e quindi sfruttando il jib la possibilità di arrivare con la cesta a terra immediatamente dietro la macchina una facoltà normalmente riservata alle macchine col doppio telescopico che viene introdotta anche sull'articolata questo è molto importante perché permette ovviamente di salire direttamente da terra dove vi sia la necessità tutto il resto è quanto già conoscete della gamma Z e della gamma Z a doppia articolata quindi un pantografo che mantiene pressoché la verticalità quindi la possibilità di lavorare a filo parete jib che permette quindi anche di scavalcare e di raggiungere posizioni normalmente non raggiungibili assolutamente non raggiungibili con la macchina telescopica raggiungibili con difficoltà con la macchina articolata e diciamo così il cesto preso da sopra o anche col cesto preso da dietro invece col jib di lunghezza anche aumentata vedete la lunghezza del jib che supera quasi i due metri e quindi facoltà di effettuare dei lavori che normalmente non erano fattibili precedentemente tutto questo su una macchina estremamente compatta con le stesse funzionalità che già conosciamo delle nostre S3 Evo quindi chiusura automatica apertura automatica manovre simultanee e totalmente proporzionali display in cesta possibilità di stabilizzazione automatica anche da terra a cui si aggiunge anche come optional la terza pulsantiera col filo comando con un filo di circa 8 metri che permette di operare la macchina da terra in totale sicurezza tutto questo è Z24G Grazie a tutti Grazie a tutti.